Bella B, bella G, ma ragionavamo l'altro giorno e abbiamo detto questo ci dobbiamo fare un video Per forza Su come quando guardi il golf da spettatore, che sia in tv, che però appiattisce tanto quindi lì un po' ci sta Che sia in campo perché segui magari una gara del tour come l'open d'Italia o gare simili O anche semplicemente quando fai da caddy a un amico Vedere il gioco dall'esterno te lo fa sembrare più facile Non lo so, uno più bello e poi più facile Io noto i colori, noto la fauna, la flora Cioè sono una persona più contenta quando cammino per il campo senza l'ansia del risultato Beh allora partiamo dal proposito che se andiamo a vedere una gara del tour comunque il campo è in condizioni perfette Quindi è palesemente bellissimo il più delle volte Però è vero ti do ragione, ci fermiamo molto di più a guardare quelle che sono le cose che rendono bello poi il gioco del golf Quindi la natura piuttosto che la bella giornata, il passare del tempo con gli amici eccetera Piuttosto che non stare in carogniti a pensare di aver fatto flappa l'ultimo colpo E di testa bassa, testa bassa, testa bassa Ti dirò però che trovo del bello anche dall'interno del gioco È un bello però molto diverso Quando si è fuori dal gioco del golf, quindi quando si sta facendo da caddy o si sta facendo all'ospettatore Si guarda proprio l'aspetto estetico, non si hanno tutte le paure, le ansie che dominano il giocatore Esatto Mentre solo all'interno si riesce a vivere il campo proprio per quello che voleva darti l'architetto del campo Quindi quel bunker è messo là perché tu lo devi vedere sul tiri di partenza e ti deve dar fastidio Quel lago è lì che so che se anche tu non lo prendi comunque lo vedi e ti viene un po' di manina in quel momento lì E anche quella è una cosa che rende molto affascinante il gioco Mentre dal di fuori uno dice sì vabbè là c'è un bunker ma tanto non ci si tira Quindi non è un problema, non è un problema se la palla sul t non ce l'hai tu Sì esatto, esattamente Diciamo che io ho avuto la fortuna di fare da caddy a ottimi giocatori E devo ammettere che, caspita, ci sono delle robe che quando fai da caddy non le vedi proprio Cioè il giocatore ti dice, eh ma hai visto che lì c'è però un bunker Ma è a 170 metri dal t, ne fai 240 di volo, che problema c'hai? Eh però, ma però cosa? Invece come dici tu giustamente quando sei tu con la palletta sul t e il bastone in mano Caspita se lo vedi e caspita se ti dà fastidio anche se poi in realtà effettivamente è fuori gioco Ma perché la tua testa come in una partita scacchi Comincia a fare dei calcoli molto allargati Prendendo in considerazione anche colpacci perché magari una volta hai fatto una paloma E quella paloma potrebbe finire infossata in quel cavolo di bunker E tu ci pensi? Pazzesco Ed è secondo me il bello di questo gioco Per cui torno sui miei passi e dico che ovviamente è bello quando anche lo giochi palesemente Però è un bello diverso È diverso Come giustamente dici tu È un bello dettato dal fatto che c'è un mix pazzesco di paura, di ansia Però di autocelebrazione quando una cosa invece ti viene sapendo quanto è difficile Perché visto dall'esterno sembra facilissimo Ma come hai fatto a sbagliare quel fatto? È difficile sto gioco, ma difficilissimo Ed è il suo bello E voi? Siete giocatori che quando giocate vi fermate a contemplare la bellezza proprio estetica del campo Quindi riuscite a staccarvi un attimo dalla vostra pallina, dai vostri colpi E riuscite a guardare quello che c'è intorno Raccogliete le margherite, cercate i quadrifogli Guardate scoiattoli Annusate tartarughe Oppure siete di quel giocatore che a testa bassa pensa solo al proprio gioco E potrebbe giocare in qualsiasi campo del mondo che tanto non gli interessa La palla deve andare da qui a là Non mi interessa come, io ce la devo portare Fatecelo sapere qui sotto nei commenti E ci sta!